Sono rimasti i 17, ma questo dei tre IPT Poker Star Nova Goic. Vediamo questo video, questo è il tavolo 19, lo troverete sul sito www.pokeritaliaweb.org. Sono tre i tavoli in gioco, tavolo 20 con solo 5 giocatori al tavolo, gli altri due tavoli sono da 6 giocatori. Ricordiamo che al prossimo play-out ci uniranno i tre tavoli in due tavoli da 8 giocatori. Ecco il terzo tavolo, il numero tavolo 21, abbiamo sempre 6 giocatori al tavolo anche in questo tavolo numero 21. C'è un po' di tensione al tavolo da gioco, sono momenti importanti anche perché il monte premi è veramente alto. Sono 5.600 euro per il prossimo avvocatore che verrà eliminato. Quelli che picchiano a forte. Abbiamo FIVA, nel conciso al poker che ha fatto un vandone rinanzi. Per 30.000 euro fanno tutti i polveri e ti lasciati ricassi. Grazie. 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 Grazie.